Tornano nuovamente dietro le ali della macchina di questo clou molto interessante, spinello il più gettonato, un rapporto di scuderia 5-8, mezzo meccanico in movimento, rinuncia se è bella, parte piano Sir Drake, via la macchina in velocità, si lotta per il comando con il spinello a largo nei confronti di Sirena d'Asilo, rientra invece bene Sir, cavalli che affrontano la piegata, si completa il lancio in 12 e mezzo per lo spinello che ha il completamento e la piegata è al comando, poi Steven De Ronco molto sollecito oggi e piano piano così gli altri dietro i due, dopo 400 in 28 rimane Nilsino al vento stile del nord che si trascina Sir Drake, risale lo stile del nord e va su spinello, 600 molto violenti, 42-7 e in piegata ora il buon ragioniere può amministrare il vantaggio, riprende fiato con lo spinello dopo 600 veramente sostenuti, mezzo miglio nell'ordine del 58-7-16 di frazione e ora riduce ulteriormente il ritmo, il leader viene via Sir Drake per anticipare Sei Bella Park, allunga lo spinello lo spinello, timbra il chilometro in 14 e due, allargo Sir Drake, ora è chiuso Steven De Ronco, i cavalli affrontano la curva finale, si va ai 400 conclusivi, 14 e 4, 1, 28 e 6, 3, 4 di miglio e Sir Drake sempre allargo dello spinello, ora c'è lo spazio Steven, poi ritorna lungo i birilli, retta d'arriva, allunga lo spinello, spinello in vantaggio, Sir Drake allargo, spinello ancora che del buo, non c'è spazio per Steven De Ronco, spinello al comando, il palo si avvicina, spinello al comando, spinello jet si afferma ancora nettamente, 1,58 e mezzo, 1,14 e 1,2 euro in chiusura non c'è stato mai lo spazio per Steven De Ronco, non c'è stato mai lo spazio ma quando lo trova non c'era più tempo, infatti spinello vince ancora bene mentre Sir Drake è secondo nei confronti di Steven De Ronco, 7, 4, 5 e l'arrivo